Sgominato maxitraffico di droga nelle marche Porto di Fano, un camion in retromarza uccide un'ottantenne L'ultimo saluto a Martina, morta sulla Montella Battese Asili Nidi, a Pesaro 220 bambini, lista d'attesa La VL riparte da Cocce Maurizio Buscaglia Una buona serata telespettatori di Rossini TV Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Tele giornale di oggi, giovedì 29 giugno Che apriamo con una notizia di cronaca Con una delle più grandi operazioni antidroga mai registrate nella regione Marche È stata chiamata a doppio gioco l'operazione della Guardia di Finanza regionale Che ha portato oggi a bene 12 arresti Scoperchiando un traffico di cocaina e ascis Che collegava le Marche ai porti del nord Europa È stata chiamata a doppio gioco una delle più imponenti operazioni antidroga mai registrata nelle Marche Una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona Con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminità Organizzata È il coordinamento del generale Alessandro Barbera Comandante delle Fiamme Gialle delle Marche Un'operazione che ha permesso di smantellare una delle più grandi organizzazioni criminali Dedite al traffico di droga mai rilevate nella nostra regione Ovvero una organizzazione che aveva base operativa nelle Marche Per poi ramificarsi fra Belgio, Olanda e Germania L'indagine ha infatti permesso di ricostruire traffici per circa 700 kg di droga Fra cocaina e ascis movimentati in tre anni Per un giro d'affari complessivo pari a circa 35 milioni di euro 12 gli arresti, 10 dei quali di origine albanese Sono stati emessi dai jeep di Ancona e Pesaro All'interno di quella che era una struttura criminale Che gravitava principalmente nelle città di Porto Sant'Elpidio Dove è stato individuato il capobanda Di Monte Marciano dove due operai edili tenevano i contatti E di Civitanova dove una coppia di insospettabili Era diventata il corriere di riferimento Altre 22 le persone denunciate in un'operazione Che ha permesso di sequestrare 50 kg di cocaina 5 automobili e beni per oltre un milione di euro Le indagini iniziate nei primi mesi del 2020 Hanno permesso di ricostruire un quadro In cui la banda era divenuta il riferimento Dell'approvvigionamento di stupefacenti Importandola direttamente dai porti del nord Europa Per poi smistarla nelle marche verso tutto il centro Italia L'operazione è nata nel territorio Cominciando ad analizzare i fenomeni di flusso di spaccio In particolare nelle città di Fano e Civitanova In quest'ultima si è verificato il caso Che nel 2020 ha dato avvio alle indagini Ovvero quando fu scoperto un ex collaboratore di giustizia Rifornire pusher di Ancona, Macerata, Pesaro e Fermo Partendo dagli stessi pusher, gli uomini della Guardia di Finanza Hanno ricostruito la piramide dello spaccio Fino ai suoi vertici Un'operazione allargata sia macchia d'olio Col coinvolgimento di oltre 100 finanzieri Intervenuti nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro, Fermo e Frosinone Indagini che hanno portato a rilevare come l'importazione di droga Avvenisse tramite corriere dal nord Europa Con base nella città tedesca di Aguisgrana E con depositi fra Belgio e Olanda Nelle città di Rotterdam, Amsterdam, Bruxelles e Anversa Il metodo di occultamento della droga Prevedeva il trasporto in automobili Dottate di doppio fondo Attivabile da un pulsante vicino ai comandi del climatizzatore In quei doppi fondi circolavano quintali di stupefacente Grazie all'utilizzo di intercettazioni E programma di decifrazione di messaggi criptati Se così riuscite a scoprire il flusso delle attività criminali Fino ad arrivare all'odierna raffica di arresti e sequestri E continuiamo ancora parlando di cronaca Perché questa mattina una tragedia Sulle molo di Levante delle Porto di Fano Dove un uomo di 79 anni È morto investito da un furgone in retromarcia Attorno alle 10.30 L'autista delle furgone Un 45enne Stava rifornendo di alimenti Il vicino ristorante Levante Quando facendo manovra Non si è accorto dell'anziano fanese Che era sulla traiettoria E ha finito per schiazzarlo fatalmente Complicata anche la definizione dell'identità dell'uomo Che non aveva documenti con sé Sotto sciocchi le conducenti delle furgone Che è stato sottoposto poi all'alcol e teste Il traffico sulle molo è stato interdetto per alcune ore Sulle posto sono intervenute polizia locale Carabinieri, guardie di finanza E guardie a costiera per ricostruire l'accaduto Ed ora parliamo di un'altra tragedia Quella di Martina Mazza 32enne mamma di Vallefoglia Morta nell'incidente stradale di domenica Sul Monte Labattese In cui ha perso la vita anche Sultan Ramadani Che con la sua BMW impazzita Ha causato il sinistro Oggi nel cimitero dell'Ulivo di Fano C'è stato l'ultimo saluto a Martina Un ultimo saluto nella terrazza del cimitero dell'Ulivo di Fano Con lo sguardo rivolto all'azzurro del cielo E al verde delle colline Un orizzonte verso il quale questo pomeriggio È volato lo spirito libero di Martina Mazza 32enne di Vallefoglia Morta domenica in una straziante tragedia stradale Martina vittima incolpevole di una macchina Lanciata a contromano a 200 km orari In quella che doveva essere una spensierata domenica d'estate Martina vittima della dissennata fuga del 27enne Sultan Ramadani Che guidava quella BMW senza patente Un comportamento scriteriato Che lo aveva già portato a tre denunce Che non sono state abbastanza per fermarlo Ma a fermarlo è stata quell'auto fuori controllo Che ha finito per uccidere anche egli Sulla strada montellabatese Nel funerale laico al cimitero dell'Ulivo L'enorme affetto per Martina Ha cercato di spodestare sentimenti di rabbia e rancore Dai familiari agli amici Parole di amore e commozione In una cerimonia accompagnata dai brani musicali Che Martina amava Così come amava quei colori Riversatisi sul suo feretro Attraverso pennarelli che hanno scritto messaggi Che l'accompagneranno nell'ultimo viaggio Colori come quelli di palloncini bianchi e rosa E di rose rosse appoggiate sulla bara bianca Carezze di conforto a lenire il dolore inconsolabile Dei genitori Massimo e Milena Che dovranno elaborare la perdita della figlia Per pensare al futuro del nipote Un bambino di 5 anni Che non sa ancora della perdita della mamma Così come non è ancora stata informata Della scomparsa Alessia La sorella 28enne di Martina Che quella domenica era alla guida della Fiat 500 Ed è ora ricoverata al Torrette di Ancona Non in pericolo di vita Ma ancora con un quadro clinico delicato Al pari di quello del coetaneo Kevin Prearone Altro sopravvissuto allo schianto I due resteranno in ospedale Ancora diverse settimane E un'operazione di polizia ambientale Della Guardia di Costiera Coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro Ha fatto emergere scarichi abusivi Nella zona industriale fanese di Bellocchi In prossimità delle canali albani Delle fiume Metavro Decine di controlli di ispezione Hanno portato ad accertare diversi illeciti In materia ambientale Come scarichi abusivi di acqua e riflui industriali E depositi incontrollati di rifiuti Sono stati sequestrati 11.000 metri quadrati di aree aziendali E i responsabili delle violazioni Sono stati deferiti dall'autorità giudiziaria E sono state anche elevate sanzioni Sul piano amministrativo per circa 40.000 euro Un altro incidente sulle lavori È avvenuto oggi a Vallefoglia Dopo l'operaio rimasto schiacciato Da un muletto alla riva Col di cui vi abbiamo dato notizia Nelle telegiornali di ieri Oggi un operaio dell'azienda di Vettri di Talacchio Ha riportato ferite gravi Mentre stava maneggiando bancali di vetro L'uomo che durante i soccorsi È rimasto sempre in stato di coscienza È stato trasportato in eleambulanza All'ospedale Torrette di Ancona E a Pesaro c'è un problema Che riguarda gli asili nido Le richieste sono aumentate vertiginosamente Tant'è che per il 2023-2024 Ci sono quasi 230 bambini In liste d'attesa Vediamo il servizio Trovare posto in asilo nido Sta diventando sempre più complicato A Pesaro quasi 230 bambini Rischiano di rimanere fuori E altrettante mamme Chiedono al comune Di provare a porre rimedio L'assessorato alla crescita Di Camilla Murgia Ha annotato 93 richieste in più Rispetto alle 376 del 2022 Anche in questo caso Il comune Come già fatto durante i servizi estivi Prende nota e prova Ad organizzare risorse e spazi Nella programmazione dei servizi educativi Del prossimo anno La stessa Murgia Attraverso un comunicato ufficiale Fa notare che interventi di questo tipo Devono tenere conto di diverse variabili Dalla individuazione di nuovi spazi A quella di nuovo personale Passando per le spese E che dunque non possono essere improvvisati Per l'anno scolastico entrante I problemi di oggi insomma Diventeranno il punto focale Su cui indirezzare le politiche educative Del 2024-2025 Intanto però I numeri del 2023 Dicono che su un totale di 469 domande Sono 238 i bambini inseriti E 224 i quelli in lista d'attesa Ovvero quasi la metà Nel 2022 le domande erano state 376 I piccoli inseriti 231 E quelli in lista d'attesa 145 Numeri crescenti ai quali finora Il comune ha risposto aprendo negli ultimi anni Anche tre sezioni primavera Che supportano la fascia più richiesta Dei 2-3 anni Uno sforzo che fra nidi e scuole dell'infanzia Vale per il comune Quasi 10 milioni di euro Previsti a bilancio Una cifra che risulta molto complicato Provare ad accrescere ulteriormente Senza fondi regionali a supporto Lo stesso comune di Pesaro Fa notare tra l'altro Come la regione Marche Sia tra le amministrazioni Fanalino di coda Negli stanziamenti sui servizi educativi E all'alberghiero Santa Marta È partito il Festival Utopia Una bella novità Nell'inserimento lavorativo Dei ragazzi con disabilità Che vi mostriamo in questo servizio Ricordandovi però che ne parleremo Ampliamente in uno speciale Che Rossini TV ha dedicato E che trasmetteremo lunedì 3 luglio Alle ore 20 Negli spazi esterni Dell'istituto alberghiero Santa Marta È partito il Festival Utopia Ovvero un'esperienza di lavoro Inclusione e condivisione Che durerà fino al 25 agosto Portando a compimento Un lavoro a più umani Coordinato da Onluz Gulliver Garante per la disabilità E lo stesso Santa Marta Affiancati da comune province Aba Hotels Obiettivo del Festival È sostenere l'inserimento lavorativo Degli ex alunni In particolare di quelli con disabilità E farlo allestendo al Santa Marta Un punto di ristoro e intrattenimento Che sarà aperto tutta l'estate E che sarà gestito interamente Da neodiplomati Al lavoro, ai tavoli e in cucina 60 famiglie 60 ragazzi Quasi 120 nuovi volontari Quindi un esercito Tanti professionisti Che danno una mano gratuitamente Abbiamo assunto poi dei cuochi E alcuni camerieri Per insegnare i ragazzi È un sogno Dalla mattina alla sera La mattina pasta fresca Cucina Il pomeriggio Laboratorio ancora di cucina La sera si va per il ristorante Il bar Musica dal vivo Laboratorio vintage Libreria Tanti settori dove i ragazzi Si stanno spendendo Per dimostrare agli altri A tutti Che possono essere vincenti Dove spesso Non vengono considerati Questo è il giusto modo Anche di integrare I ragazzi Anche con disabilità Nel mondo del lavoro Cioè utilizzare Quello che loro hanno Di potenzialità E metterle a disposizione Di tutta la società Sono molto contenta Qui appunto Festival Utopia Questa non è un'utopia Ma in realtà Si sta toccando con mano Quindi anzi Auguro A questi ragazzi Di lavorare E di avere un bel futuro Come dico Di tutti i progetti Che ho fatto fino ad oggi Nel comune di Pesaro Questo è quello Che mi tocca Veramente il cuore Ad arricchire il festival Ci sarà anche la bottega Del riuso della Gulliver Ci sarà uno spazio Dedicato ai dibattiti E la mattina Il festival si aprirà Anche a laboratori Durante i quali I ragazzi prepareranno Pasta fresca e piadine Acquistabili dal pubblico Del festival L'idea di pensare Anche a una ristorazione Fatta in un certo modo In cui siano tutti valorizzati E non sia semplicemente Pensare sempre al profitto Cioè anche proprio Un'idea nuova di lavoro Nel campo della ristorazione Solo che avevamo sempre Questa cosa Del dire Ok finita la scuola Va Rimane un po' tutto lì Bisogna trovare Qualche cosa Per aiutare i ragazzi Anche a trovare Una possibilità di lavoro No? È importante questo E quindi Abbiamo provato Abbiamo avuto la fortuna Di incontrare anche Persone molto attente a questo Una è la Marusca Palazzi Che garante La disabilità del comune di Pesaro E l'altro invece più folle Perché ci vuole un po' di follia Per fare questa cosa È Andrea Boccanera Della Gulliver Che appunto Insieme Si è creata una sinergia Tra noi tre Chi è utopista Ha il continuo compito Di denunciare E annunciare Questo sta a significare Che io in qualità di garante Ho il dovere di dire Che le politiche Che hanno a che fare Con il lavoro Delle persone In condizioni diverse O in situazioni di disabilità Non sono ancora ottimali Abbiamo bisogno Di rimetterci A ragionare Sulle politiche Che riguardano il lavoro Questo ha a che fare Con tutti Anche con l'amministrazione Per cui Anche già partendo Dagli stati generali Che abbiamo vissuto Un paio di settimane fa Abbiamo rimesso in discussione Appunto Queste politiche Il festival Nasce un po' Da questa Da questa esigenza L'esigenza Di inserire ragazzi Con disabilità Soprattutto intellettiva Nel mondo del lavoro Con tutoraggi Con anche migliori prospettive Dal punto di vista Contrattuale Cosa che ancora Non funziona molto bene Ci sono realtà Che funzionano Anche tirocini Di inserimento sociale Che danno Grande valore Al percorso di vita Dei ragazzi Ma ancora poco Retribuiti Quindi dobbiamo Dobbiamo rimetterci in gioco E ragionare Anche su cosa significa Iniziare nuove imprese Anche imprese sociali Per il futuro E quindi spero Che durante Un tempo così lungo Che è quello Di tutta l'estate Questa riflessione Possa essere Una grande riflessione Da parte di tutti i cittadini E restiamo legati Al tema dell'accessibilità Per darvi notizia Che attraverso Il bilancio Partecipativo Del quartiere Centro Storico Si è deciso Di investire I finanziamenti Distribuiti Dalle comune Nell'abbattimento Di quattro barriere Architettoniche In altrettanti Attraversamenti pedonali 8.500 euro Che hanno permesso Di eliminare I dislivelli Con relativa Sistemazione Delle asfaltature Presenti Negli attraversamenti Di piazzale Cinelli Piazzale Lazzarini Piazzale Carducci E di via Gramsci E nell'ultimo periodo Sono state diverse Le segnalazioni Riguardanti Campi di gioco Di quartiere Mal ridotti Nella città Di Pesaro L'assessore comunale Mila della Dora Ricorda come Negli ultimi giorni Siano state effettuate Diverse manutenzioni Che hanno portato A sistemare Il campo Da mini basket Di via Le Trento La sistemazione Dei canestri In strada Case bruciate E delle playground Gianluca Mattioli Di Villa San Martino Così come sono state messe Nove porte da calcio Nell'area sportiva Di Vismara Ed è stato siglato Oggi Nell'Università di Urbino Il protocollo D'intesa Fra l'Ateneo E il Comando Provinciale Di Guardia di Finanza Per rafforzare Il sistema di prevenzione E controllo Delle condotte lesive Degli interessi pubblici Economici A danno delle misure Di sostegno E di incentivo Derivanti Dalle PNRR Assieme All'erettore Calcagnini E alle comandante Delle fiamme gialle Paolo Brucato Rappresenta la firma Anche il prefetto Emanuela Saveria Greco E l'arcivescovo di Pesaro Monsignore Sandro Salvucci Ha annunciato oggi La decisione Di nominare Il presbitero Don Marco Di Giorgio Come nuovo vicario Generale della Diocesi Per i prossimi 5 anni Don Marco Succede ai 12 anni In tale ruolo Di Don Stefano Brizzi Chiamato in questa fase Ad affiancare Lo stesso arcivescovo Salvucci L'avvicinamento Della carica Avverrà il prossimo 24 settembre Festa Delle Patrono Di San Terenzio Ed è tutto pronto Per i malatesta A Fano La rievocazione medievale Già nota Come palio delle contrade Che da quest'anno Recupera il suo nome d'origine Ecco il ricco programma Da venerdì A domenica Inviti a nozze Studenti Ciceroni E sfide allargate Quello in programma A Fano Da venerdì 30 giugno A domenica 2 luglio È un vero e proprio Salto nel passato Tutto merito Del palio delle contrade Che da quest'anno Recupera il suo nome D'origine Rinsaldando L'antico sodalizio Con confcommercio I malatesta A Fano È così Che torna infatti A chiamarsi La rievocazione medievale Ancora una volta Frutto dell'intenso lavoro Del gruppo storico La Pandolfaccia Sì il progetto Dell'idea che avevamo avuto È che una persona Che capita a Fano Possa respirare L'aria medievale Quindi tutta la città Darà questo respiro A partire dal Pincio Dove sabato Verranno restiti Tutti gli accampamenti militari Quindi diversi figuranti Da tutta Italia Verranno a Fano Per fare questo accampamento Antichi mestieri Su Viarco d'Augusto Per poi proseguire In questa passeggiata Che vi porta direttamente In piazza Andrea Costa Per Nefanesi Il mercato del pesce Dove ci sarà La taverna E anche tutti gli spettacoli Le attività Per i giochi per bambini In legno e così via E poi piazza 20 Settembre Dove sarà Il palcoscenico maggiore Che partirà dalle ore 21 In poi Dove vedrà il venerdì sera I festeggiamenti Per il ritorno Del signore Pandolfo Terzo La domenica Il banchetto in onore Il banchetto in onore Del suo matrimonio E la domenica La di sfida delle contrade Contrade che Non saranno più Le quattro città di Fano Ma saranno i quattro castelli Infatti quest'anno Non sarà più Fano A sfidarsi per il tiro alla fune Ma saranno quattro castelli Che erano governati di Malatesta Come Mondolfo San Costanzo Monteporzio Castelvecchio E Fano Che sono poi gli stessi Che porteranno le loro tipicità All'interno della taverna Medievale Che sarà in piazza Andracosta Fra le novità di quest'anno Anche la presenza Di alcuni studenti Del liceo Anolfi e Apolloni Che accompagneranno Fanesi e villeggianti Tra i luoghi malatestiani Della città Abbiamo un progetto Organizzato Con l'alternanza scuola lavoro E faremo da guide Qui davanti Alla ex chiesa di San Francesco E alla corte malatestiana Dal venerdì Il sabato E la domenica Il 30 giugno L'1 e il 2 luglio Dalle 17 Alle 21 E vi spiegherei Porteremo appunto A vivere comunque Nei luoghi Dei Malatesta Ciò che vivevano Nella loro tradizione E nelle loro abitudini Ma la vera chicca È probabilmente un'altra Per la prima volta infatti Si potrà partecipare Indossando abiti Del quindicesimo secolo Sì All'interno di Palazzo Martinozzi Sala Pedinotti Che è comunque Segnalato in tutti i totem Della città C'erano delle piantine Con il programma E tutto quanto Ci sarà praticamente Un angolo Dove verranno messi A disposizione degli abiti Chi vuole In qualsiasi cerario Si presenta lì Con la volontà Di indossarli Di provarli Indossarli E poi può fare Una passeggiata Per la città In costume storico E magari scattare Dei selfie Delle foto Magari meno medievali Però poter essere All'interno di questo Protagonista Per la città di Fano La seconda cosa È il sabato sera C'è la possibilità Di partecipare Al banchetto medievale Che viene fatto In onore Del signore Di Pando del Foterzo Nel nostro sito www.malatestafano.it Trovate tutti i recapiti Per potersi iscrivere E con un contributo Se è possibile Avere un vestito E partecipare alla cena Un evento fortemente Caratterizzante dunque Che quest'anno Avrà anche Una connotazione Solidale Sì ci sarà la possibilità Di acquistare Questo sacchettino di sale Che è un simbolo Ma serve per poter Donare una somma Ad un alluvionato Delle miglia romagna Che noi conosciamo bene Che tra l'altro È un artista Inserito nell'interno Del cast Del palio delle contrade Che tra l'altro È un artista E anche Un'officina di sogni In cui praticamente Tramanda L'attività artistica E gelaresca Ad altri giovani Tutto era però Partito da un'idea Di confcommercio Che oggi torna a sostenere La manifestazione A cui aveva dato I natali È veramente Un motivo di orgoglio Ritornare Al nome Malatesta Perché valorizza Con tutto Questa manifestazione Quelle che sono Le belleste storiche Della nostra città Quindi io credo Che ritornare Al passato Ma pensando Veramente al futuro Sia quella nota Di colore Per noi Importante Per attrarre Turisti Nella nostra città E creare Quel movimento Turistico Economico Ribadisco Il concetto Per creare economie Comunque Nella nostra città Quindi grazie Al gruppo storico Della Pandolfaccia Che con tanto sforzo E tanto lavoro Hanno portato avanti Sempre questa idea Che appunto È nata In confcommercio Tanto tempo fa E che con la loro Location suggestive Dei comuni Che compongono La reale Dop Coglie Al Metauro Monbaroccio E Cartocetto Si tratta Di un nuovo Dinner Tour Che vuole fare scoprire Le suggestioni Di questi territori Unendo Ristorazione Luoghi di interesse Storico E pasaggistico Musica Di qualità E riflessione Colta Il viaggio Condotto Dalla narrazione Teatrale Di Filippo Paolasini Inizia Questo venerdì Alle 20.30 In piazza Bravante Di Montemaggiore Al Metauro La proposta Della cena Sarà curata Dagli chef Arsenio Teloni E Matteo Baldelli Del ristorante Da Matteo Con la collaborazione Del divulgatore Enogastronomico Gianluigi Garattoni Una serata Accompagnata Dallo spettacolo Musicale Di Frida Neri Viaggio Sotto i Cieli Del Mondo E da un talk show Culturale Tenuto da Massimo Fucci Divulgatore Scientifico Del Museo Del Bali Il 21 luglio Invece La seconda tappa Di Conterranea Sarà a Monbaroccio In un luogo Di spiritualità E scienza Come Palazzo Guido Baldo Del Monte Un appuntamento Che si legherà Alla figura Del Beato Sante In occasione Dell'ottocentesimo Anniversario Del Santuario Monbaroccese Viaggio di Conterranea Che si chiuderà Il 29 luglio A Cartoceto Nella piazza Del Teatro Del Trionfo Un tempo frantoio Deposito di olive E oggi luogo D'arte e spettacolo Nonché prossimo polo Di innovazione Artistica D'avanguardia Ed ora passiamo Alle notizie Di sport Perché continua A prendere forma La costruzione Dell'Ital Service Pesaro In vista Della prossima Serie A Di calcio A 5 La società Del Presidente Lorenzo Pizzi Ha annunciato oggi Le importanti conferme Di Luiz Edoardo Dalcin E Diego Pires Che vanno ad aggiungersi A quelle precedenti Di Tony Dandelle Di Olivera Canal Murillo Schiochè E Putano Nei giorni scorsi Erano stati ufficializzati Anche i primi due acquisti Gli esperti Vava E Andrè Ferreira E concludiamo ancora Con lo sport Ma parlando di basket Con la VL Con i tifosi pesaresi Che ieri hanno accolto Con grande entusiasmo L'arrivo in il bianco rosso Del nuovo coach Maurizio Buscaglia Parte L'avventura Di Maurizio Buscaglia Come nuovo Allenatore Della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Dopo la firma Sul contratto biennale Con opzione Su un terzo anno Ieri All'Hotel By Flaminia E' stato presentato Il tecnico Barese 54enne Ex di Trento Napoli Reggio Emilia Che arriva in quella Pesaro In cui ha avuto per anni Ammicamenti Che ora finalmente Si concretizzano Noi ci conosciamo da tempo Non solo per ragioni professionali O da avversari Ma proprio perché ci conosciamo Ci siamo sempre tenuti in contatto Abbiamo avuto degli avvicinamenti Quindi sai Sembra come il momento giusto Bello Quando tutto torna Per essere insieme E quindi mi fa molto piacere Anche perché sono io Che vengo in una signora piazza Sono io quello che Sente la responsabilità E l'entusiasmo Di essere in un posto Dove insomma Lo ridico Come hanno detto sempre tutti Che trasuda storia Una presentazione In Baia Flaminia Aperta ai tifosi pesaresi Che hanno gremito la sala Mostrando già Il giusto termometro Dell'entusiasmo Sono contento Quindi se la stanza era piena Adesso dobbiamo Facciamo col palazzetto Sembra una cosa che Lo dico perché Come ha sottolineato prima Stefano Cioppi Io ricordo Da avversario Ricordo da spettatore Un clima bello L'ho avuto da avversario Bello Figurati E quindi c'è da parte mia Il desiderio Lo dico per sottolineare Un aspetto che Tecnicamente Mi è caro adesso Noi Andiamo avanti In un programma Andiamo avanti In un processo di crescita Di una società importante Organizzata Ma ripartiamo anche un po' E tu lo sai Che proprio per ripartire Bisogna metterci tantissima energia Allenatore Staff Giocatori Chi viene Con che motivazioni E voglia E pubblico E quindi non mi stancherò mai Di dirlo sempre Benché so che dobbiamo Meritarcelo Aggressività Fisicità E velocità Sono stati spesso Il paradigma Del basket di Buscaglia Che proverà a valutare Se a Pesaro Ci saranno le condizioni Adeguate Per cucinare Di nuovo Una simile miscela Io guarda Certe volte L'ho fatto Altre volte meno Ultimamente Nell'andare ad allenare In certi contesti E squadre Ho inserito giocatori Più vicini A quelle situazioni Altre volte meno Perché si incastravano In maniera diversa Dipenderà da quello Che possiamo fare Dipenderà dal budget Dipenderà anche Dal desiderio Di questi giocatori Perché Pesaro Storicamente Negli ultimi anni Ha avuto Bei giocatori Che hanno avuto Poi un futuro brillante Mi è capitato In altre piazze Quindi ci sono Tanti fattori E allora Un grandissimo In bocca al lupo Alla nuova coach Della Carpegna Prosciutto Maurizio Buscaglia E con questa ultima Notizia di sport Termina qua Il nostro Rossini News Però prima di lasciarvi Le previsioni Delle meteo Vi ricordo Le nostre programmazioni Questa sera Alle ore 20 Subito dopo Questa prima edizione Del nostro telegiornale Potremo rivivere Lo speciale tv Dedicato alla nona edizione Di Disco Diva Che si è tenuto Questo weekend Ore 21 e 20 Invece con le repliche Di Master Fish Le pesce va in onda Potremo rivedere Durante il corso Di quest'estate La prima edizione E la seconda In questo caso Si parla ancora Di prima edizione Questa sera Alle ore 21 e 20 Sabato alle ore 22 E domenica Alle ore 20 E poi vi ricordo Come di consueto L'appuntamento Con la nostra Rassegna stampa In diretta Domani mattina Alle ore 7 e 20 E le repliche Che vedete In grafica Saremo in diretta Anche sulla nostra Pasina Facebook E domani Per l'occasione A condurre Ci sarà Il nostro Daniele Sacchi Ed è davvero tutto Con questa nuova edizione Di Rossini News Io vi ringrazio Per essere stati con noi E vi auguro Un buon proseguimento Di serata Grazie a tutti